I cazzi Mamma Che carino L'importante è mangiare Il mcdonald può accompagnare il solo Ora facciamo uno scherzo a Sasha E' veri gusto Sto al mio cuore Un altro road trip arriverà E andremo ad Ascoli insieme ai mates Al Fugone Che c'è? Bene ragazzi Qua è Stepney bentornato Su un nuovissimo video vlog Domenica 27 novembre 2016 Non so perché ci stavo pensando Manca sempre meno al Natale E mancano anche 5 lunghe ore di macchina Per raggiungere l'evento ad Ascoli Piceno Siamo in ritardo Sono le 8 e 10 Dovevamo scendere 5 minuti fa Suri si sta asciugando i capelli Lo sentite vero? Che poi lui dà la colpa a me Però sentite Non è pronto? E' in bagno E visto che sta uppando Mi ha pure bloccato la connessione l'infame Io dovrò finire di uppare un video Grazie a Team Weaver Che porca miseria Mi ci vogliono 55 minuti Per renderizzarlo Non so perché E devo finire di preparare la valigia Perché per due giorni Starò anche a Firenze Dopo tanto tanto tempo A Tomo On the road With the squad We are again I'm surprised Che c'è ma? Ti ho facciato la mela Sì fra Ma Siamo tutti pronti Per le 5 ore di viaggio Siamo arrivati anche Ciao Ciao Papà Vegas Sta ponderando sul fatto che non dormirà in questo viaggio perché non riesce a dormire nelle macchine Io invece da tipo un anno e mezzo a questa parte ho iniziato a addormentarmi ovunque Quindi non è più un problema Ma in un tempo non ci riuscivo I bagni Che visione ancestrale Siamo in autogrill Passare all'autobus Un'ora Due ore Non lo so Ho dormito e mi fa male il collo C'ho il collo rotto Perché Sasha sei qua Sono tutti occupati I bagni Mi sono pisciato Questo è aperto U libero Cosa stai facendo Sasha? Sono fatto per i giganti Sto ci trovando Ma È un fan per i capelli Ma per le mani cosa è? Non c'è È tipo Che ne so Un mini centro commerciale Ma che cazzo? Vabbè È un mini centro commerciale in mezzo all'autostrada E Suri è andata a fare le spese al McDonald's Sono due giorni che va in bagno e sta male Poverina Io voglio mangiare una cosa di leggero in realtà Guardi comunque il cocco E raga Avevo promesso che mi sarei messo a dieta Infatti sono a dieta dovevo prendere l'ananas nel frigo Perché me la sono dimenticata Costoso però mangiare leggero qua Ti cazzi Suri ma lo vendo nel libro dei mates Cazzo qua No Bastardi Mezzo cocco 3,20 euro Minchia il capitalismo frate Non dicono In mezzo all'autostrada Non lo trovi in mezzo all'autostrada il cocco Non lo trovi in mezzo all'autostrada il cocco Minchia se ha preso un autogrill in mezzo al deserto L'acqua te la fanno pagare 100.000 euro Cazzo Hai visto? Questo mi lascio giù Mamma Che carino Che carino Tua madre Tua madre Tua madre Tua madre Bastardo Ti accoltello mentre dormi bastardo Ti accoltello mentre dormi bastardo Compriamolo Alice prendi quello per la mamma Lo vuoi per la mamma Alice? Che ti compro la tua presaola? Sascha Ma Sascha ma tu hai da quanto tempo lo mangi? Mi piace E dopo questo veloce pit stop all'autogrill Adesso si riparte E si mangia Cosa? Speriamo di sopravvi Oh ma sono suede nulla qua Il frugolo dei maids Più o meno La tua resta la presaola? Ciao Mamma ho fame La tua brioche? Mamma ho fame Ho i cracker Dammi i cracker Per la mia dieta Per Natale c'è animale Vuoi prima la macedonia o i cracker? Voglio prima i cracker mamma Come vanno lì? E voglio anche la presaola di Sascha Ma la mia è freccalda E nello zaino da tre ore Ti rendi conto di mangiare cose strane Quando i cracker non hanno il colore dei cracker Mi voglio mangiare la polvere della segatura Ah la presaola Ma me faccio il panino alla presaola Panino pronto Il mcdonald's può accompagnare solo Manca un'ora di viaggio Ultimo pit stop Siamo a pezzi Mi giuro È strano Ma il frugolo è scopodo Una merda Voglio dare un succo di frutta Facciamo solo l'aloe vera Voi mangiate? Ah È morto Hai visto Sascha Ti lamentavi all'autogrill Siamo arrivati E abbiamo trovato quelli lì Omaggio Ma Funziona? Ah no C'è la spina Ecco perché Ah scusa Aspetta Vai Metti la mano Sascha Ora si sono asciugate Dieci punti a griffondor Mi regalano la Sascha il libro come imparare a giocare a main Aia Non usare il libro dei fan Vergognati Mi scusi signora Ma ho bisogno della sua mano Ora facciamo uno scherzo a Sascha Cosa stai facendo Riletti? Sì Così fai L'aloe Sei di diretta Sì Ciao Piacere Che stai facendo Sascha? Sascha che fai? Adesso ti strontola Giù di carriera Ahahah Eeeh Foto 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 Buon Natale E' bella Sempre di più E' finita anche oggi Siamo vivi Yeeeh Com'è Antonella? Dai guarda foto E ritorniamo a casa No in realtà ho fatto Oddio scusa Scusa Antonella L'ho fatta apposta Mi spiace Addio Sascha Addio Cosa fai con gli occhiai da sole? Come avete visto l'evento è finito Adesso siamo in centro ad Ascoli Dovevamo dormire a Rimini In realtà i piani sono cambiati Perché stiamo andando a mangiare Per poi tornare a casa a Milano Il nostro carissimo tour manager Driver Dario Ha deciso di Prendersi la responsabilità Di riportarci a casa Con 5 ore e mezzo di macchina E lo faremo Ora andiamo in centro E ci mangiamo qualcosa di buono Molto bella la Ascoli Devo dire Sono un sacco di costruzioni Fighissime Qui mi sa che c'erano i mercatini di Natale Aperti tutto il giorno Ma Noi siamo arrivati un po' tardi 10 e mezzo Cazzo qua Adesso l'ammazzo Prendiamo tutti gli amici Spacca la vetria Oddio Se sbagli la misura Spacchi qualcosa davvero Bella sta piazza Cavolo Ma che storia No figo Molto bello Anche il pavimento Tutto Piastrellato Hai visto dove ti ho portato mamma Quella che sono 10 e 35 10 e 35 Si è fatta la di mangiare Che dici Madre ingrata No Io ho fatto anche Ho fatto un cazzo tutto il giorno Mamma Madre ingrata La vera madre ci darebbe la carta A contadori Da spendere quello che vogliamo Vai prendi pure Oliva alla sculana Solo una Perché sono a dieta Una sola Solo una Due perché Lui perché siamo fratelli Non dovrebbe esserci l'osso C'è l'osso 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 È very good Pronto È very good Sto al mio buro E ora È l'ora del cremino Cos'è il cremino Cremino Crema fritta Crema fritta Per stare leggeri Buono Cremino per voi Me ne ricordavo bene Sono tipo dolci Sono buoni Non è un sapore Che mi fa impazzire La mamma ci ha fatto un regalo Grazie mamma Che bello Botto di pacchetti Pacchettamento in live Dai Con finito Guardate insieme Uno squirtle Quarto in pole position Charmander Ci usa due starter Snorlax È finissimo sto pacchetto Blitzel Wartortle Tutte le sto trovando Frillish Harrier Questa gente Allora la reverse è un Pignite Lillipop Ma io sono indietro mi sa Ne vai avanti un'altra La rara la rara la rara Pem È un bello Blastoise solo Ballo insomma E dagli frate È cagato Eh blastoise solo ci sta La rara Bum Senti va bene Haccia il gorro Sì Vabbè porigone è carino dai L'importante è mangiare Iniziamo dal pollo e dalla carne Pollo carne Pollo carne Non è né una togliata né una costata Mangiamo Partiamo dal pollo Questa è pasta dietetica Buonissima Dietola piccante buonisce Ma io non l'ho mangiata È arrivato il dolce Finalmente Ah tanto è uguale questa Biscotto al cioccolato Con cioccolato bianco Per stare leggendo Perché bevi il cappuccino Per sgrassare Abbiamo finito di cenare Sostai tutti molto gentili Ora Stiamo tornando A casa A Milano Speriamo che il nostro driver Sia all'altezza della situazione Se no non vincerai il driver dorme Antonello e Dario Si contengono il driver dorme Volevo immortalare il disagio Di questo autogrill Barra benzinaio Sono ovunque quelli che la vuole vedere È il macaco in realtà Sì ma Sì ma che cosa brutta davvero Arriva un clown Appeso a caso lì Ma che storia l'importo che sale Settantino Tra due ore dovrei pisciare ancora di più Sarà più divertente A me piace una bottiglia L'attesa del piacere è il piacere stesso Una cosa che mi sto pisciando addosso Con animali fantastici dove trovarli Mi stavo pisciando addosso Cazzo me ne frega della fine Dovevo tapparlo con un elastico Oh ma che è sto freddo cazzo Sto congelando Sascha Eh Saranno le 3 di notte It's stop in autogrill Veloce Dobbiamo andare in bagno E dopo ci lamentiamo un po' Oh c'è il bagno dei bambini Vediamo com'è il cesto dei bambini Sono le 5.44 Siamo tornati a casa Mi sono dato proprio una sciacquata veloce Sono cambiato la maglietta Che era sporchissima Tra un'ora devo andare alla stazione Perché ho il treno per Firenze Come avevo detto Devo fare il Rimini Bologna Bologna Firenze Ma i piani sono completamente cambiati Durante l'arco della giornata Mi approfitto Edito un video Non ha senso andare a letto Perché probabilmente Non mi sveglierei E perderei il treno Io vi saluto ragazzi Anche il mio amico zombie vi saluta Pollicione in su Commentate Condividete se lo avete fatto sul canale Noi ci vediamo al prossimo video Qua sapete tutto Questi viaggi a giro per l'Italia Ci uccideranno Prima o poi Sono sicuro Che stai facendo? Faccio un po' di bobertini No Poi a letto Poi a letto Ma notto Poi a letto Poi a letto Poi a letto